Il premio di poesia Città di Aquiterme quest'anno si è sdoppiato con un ricco programma del quale la premiazione dei vincitori è stato il momento più alto di una a due giorni in cui la cultura con la C maiuscola l'ha fatta da padrona. Grazie alla collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Piemonte interessante la giornata di studi rivolta particolarmente a docenti di scuola secondaria. In memoria di Mario Soldati con gli interventi di Giacomo Iove dell'Università della Svizzera Italiana di Alberto Sinigallia, giornalista della Stampa, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, a cui è seguita nel pomeriggio un'altra conferenza dedicata al poeta Eugenio Montale con la redazione del professor Giorgio Ficara, ordinario di letteratura italiana a Torino, al quale è stato consegnato il premio alla carriera. In serata presso il Grand Hotel Nuve Terme, gran galà di premiazione dell'undicesima edizione del concorso con i vincitori delle sei categorie in gara presentati da Leonora Trivella, con le letture di Nina Cardona, Elisa Paradiso e Alessandro Tacchino e l'accompagnamento musicale dell'ensemble vocale e strumentale Res Muse. Nella categoria A si sono aggiudicati il premio alle opere Amico di Romulo Bugatti, compagna di scuola di Sofia Pinto, Rinascita di Ana Salviani. Nella B per essere felice di Vittoria Bonaudo, Auschwitz di Benetta Peron, Primo la rossa d'inverno di Carol Viglione. Nella C premiati i sospesi di Simona Sanza, 22 marzo 2019 di Mirian Lopa e Sussurro di Francesco Palamara. Nella sezione D, riconoscimenti al signore delle giostre di Ivan Fedeli, la stanza e l'oblio di Carlo Giacobbi e sia la parola alfabeto di luce di Rosanna Spena. Nella categoria E, notte stellata sul rodano di Fabrizio Bregoli, zarina di Giuseppe Nori, tempo di vacanze di Alessandro Pancotti. Infine nella sezione E, premio unico al comune salario di Fabrizio Bernini. Assegnate anche le menzioni di merito ed il premio della stampa. Nel pomeriggio di domenica i premiati si sono dapprima recati in visita alla Fondazione Pavese e ai luoghi pavesiani, per poi partecipare, presso Palazzo Robelini ad Aquiterme, ad una tavola rotonda, la quale è seguita la presentazione della collana poetica Stampa 2009 con Maurizio Cucchi. Il concorso, giunto all'undicesima edizione, è stato organizzato da Archicultura, con il supporto dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmi di Torino, dell'Istituto Nazionale Tributaristi, col patrocino della regione Piemonte, della provincia di Alessandria, del comune di Aquiterme, e dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.